L'assessore dell'urbanistica del comune di Salerno, Mimmo De Maio, che ha effettuato un sopralluogo sull'ex statale 18 tra Vitri e Salerno, travolta dalla frana, ha comunicato che la riapertura potrebbe slittare nel fine settimana. I problemi incontrati sono di natura tecnica, ma dovrebbero essere risolti entro qualche giorno. Secondo le prime informazioni, pare che la natura della roccia, nella parte più in alto, ha rallentato l'attività di perforazione. Il materiale è troppo friabile, inoltre ostacolato e pertanto impedito di poter fissare la rete di protezione che garantisce la messa in sicurezza e almeno dunque la riapertura a senso unico alternato. Di certo, dopo questo primo passo in avanti, ci vorranno circa 30 giorni di lavori per la riapertura totale al traffico in perfetta sicurezza. Potrebbe quindi in sostanza aprire a senso unico alternato la strada ex statale 18 tra Salerno e Vieti sul mare nel fine settimana. Nel mentre dei lavori, continua anche per il weekend, la convenzione con la SAM che consente l'entrata gratuita in autostrada al castello di Cava di Tirreni per coloro che devono recarsi a Salerno o il contrario. Insomma, ancora giorni di attesa e poi dovrebbe tornare almeno in parte la normalità dopo l'improvvisa frana.